Una grande manifestazione popolare che coinvolga la cittadinanza di Lucca e Capannore più in generale cui possano partecipare tutti quelli che sono contro gli assi viari. Associazioni e comitati promotori hanno annunciato che subito dopo l'estate ci sarà una vera e propria mobilitazione per sensibilizzare le istituzioni sul problema rappresentato dalla grande infrastruttura che cambierà la storia della mobilità ma anche dell'ambiente della Piana di Lucca. Nel frattempo viene ribadita la necessità di un'assemblea aperta alle diverse associazioni, comitati e organizzazioni sindacali per la preparazione delle prossime iniziative contro gli assi. Crediamo si legge in una nota congiunta di associazioni senza confini, comitato altre strade, legambiente Lucca e Capannori che la conversione ecologica non può essere pensata andando a consumare ulteriore suolo inquinando le falde acquifere spaccando la Piana di Lucca attraverso una muraglia di catramme e cemento alta 10 metri. Per questo il 16 giugno i comitati si riuniranno a Sant'Anna in un incontro durante il quale ci sarà anche una verifica sul piano legale sia rispetto a possibili ricorsi verso il Tarra e la Corte Costituzionale sia rispetto a possibili percorsi partecipativi come referendum.